Filippo, sei entrato nel momento in cui serviva a stringere i denti e portare a casa un risultato importantissimo. Che gara è stata? Sì, è stata una gara diciamo al primo tempo. Pensavamo andassi in modo diverso, siamo sinceri. Però queste partite si giocano sempre fino all'ultimo. Siamo riusciti a incanalarla nel modo giusto. E alla fine, lottando, sei riuscito a portare a casa i tre punti. Hai parlato di lotta. Il Genoa sa soffrire. Sono tre gare in cui non subite gol. Cosa ci vuole per continuare così? Sì, il mister ci ha dato sicuramente un input molto importante. Come si vede, appunto, come dicevi, è tre partite che non prendiamo gol. Ma soprattutto, diciamo, le squadre fanno fatica a segnarci. Siamo diventati molto competitivi, più tignosi. E questo porterà tanti punti, credo. Hai un nuovo compagno di reparto, Kevin Strotman. In allenamento, cosa ti dà? Cosa impari tutti i giorni ad allenarti con un campione così? Sì, io cerco sempre di rubare, diciamo, un po' di consigli un po' da tutti. Soprattutto in giocatori come Kevin, che sono arrivati, si sa la storia che ha fatto. Quindi cerco di migliorare più stesso. Cioè, cerco di migliorare il più possibile. Lui sicuramente è un compagno che mi aiuta molto. Oggi, prima della partita, i tifosi rosso-blu, anche se da distanza, vi hanno fatto sentire il loro appoggio. Tu non hai ancora avuto modo di trovarli allo stadio, ma che emozione è stata? Sì, è stato bellissimo. Io personalmente amo i tifosi. Mi piace quando c'è il tifo, quando comunque allo stadio si sentono. E mi hanno detto che qui c'è un clima spettacolare e non vedo l'ora che possano ritornare allo stadio. Adesso inizia il girone di ritorno. Avete concluso quello d'andata a 18 punti. Cosa ci vuole per continuare su questa scia? Ora siamo a buon punto. Abbiamo chiuso un buon girone d'andata. Potevamo fare di più, potevamo fare di meno. Non lo so, però penso che continuando così potremo, diciamo, speriamo tranquillamente arrivare alla salvezza.